Per fine mese la Thales Alenia Space dovrebbe incontrare gli ex lavoratori Intex per dare loro le opportune rassicurazioni in merito al loro riassorbimento in azienda. L'assessore alle attività produttive della regione Abruzzo Mauro Febbo ha incontrato nei giorni scorsi i vertici della Thales, ma a fine mese ha chiesto loro di incontrare anche gli stessi lavoratori e i sindacati, cosa che farà lui stesso a breve. L'assessore è molto fiducioso sul riassorbimento perché la space economy è un settore che tira. L'incontro lo faremo sicuramente, anche se peraltro sono stato autorizzato all'amministratore delegato e al direttore di Thales Alenia, quindi parliamo dei massimi vertici, di poter fare un incontro e loro me l'hanno fissato per fine mese, quando si avranno un cronoprogramma preciso rispetto a ciò che si sta portando avanti. C'è stato qualche momento di ritardo perché questo risultato si attendeva per l'inizio di luglio, diciamo che è stato posticipato a fine luglio, però la space economy sta andando avanti, questo progetto peraltro importante che vede coinvolto diverse aziende ai massimi livelli europei, credo che stia andando verso un indirizzo buono. La regione sta seguendo attentamente questa partita, ha messo già a disposizione milioni di euro su un primo bando, ne metterà a disposizione altri, quindi siamo particolarmente interessati a questa ricollocazione, ma in generale al potenziamento di un settore importante che sta dando dei grossi risultati a livello nazionale ed europeo. Ecco perché è la massima attenzione per ricollocare i lavoratori che hanno figure professionali ben precise, per cui credo che le aziende ne abbiano bisogno, ma soprattutto perché può dare nuova e importante occupazione, soprattutto specializzata. I lavoratori ex Intax da tempo ormai vivono un dramma occupazionale notevole e sono circa 60. La regione Abruzzo, assicura Febbo, continuerà a lavorare e a farsi da garante in questo percorso. Febbo rimane comunque molto fiducioso sulla positiva risoluzione dell'avvertenza.